Musica Bella a tutte scimmie evolute Benvenuti in questo nuovo video Di UraRMT Siamo quasi giunti alla fine penso Perché ho visto il numero di titoli Quindi abbiamoci Verso la fine di questo Gameplay E vediamo come andrà a fine questo Vecchissimo gioco Oh no Mi raga un po' Oh i cani di nuovo Ok andiamo Mi sta lagando un po' però Dovrebbe andare meglio Infatti C'è vita Munizioni perfetto Cambiata un po' la musica Chi mi ha sparato Non è stato solo lui No? Bello solo Immaginato Che c'è scritto lì Non lo so Non conosco il russo Ah direi altri Mori Oh Quest'oggi finalmente le pistole Sembrano funzionare Però non vorrei parlare troppo Chi è chi è chi è chi è chi è Vieni, 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 v C'è poche munizioni ragazzi Però questa si No sono scarico Mi ha lanciato un'altra bomba Ok andiamo Oh papa 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 Fate cavole di bombe Mi lancio E non muore mai comunque Diamo che non muore mai Ok Dammi un po' di bombe No Non hai bombe E' un po' che non uso Molotov, non li ho viste più Andiamo con il nostro caro Fucilozzo E continuiamo, su per le scale E sento qualcuno, chi è? Chi è là? Dove sei? Perché lottano tra di loro? Uh, muori Meglio così E dai però devi Devi morire Devi morire Muori Un po' di vita Perfetto Munizioni Munizioni per fucile Andiamo Questa valvola La devo tirare? Sembra strano No, ok Ecco le Molotov Le ho chiamate ragazzi Però non le userei mai Perché l'ultima volta Che le usavo Le usai Ficino a brutta fine Perché non hanno Cioè è difficile lanciarle Perché altro Mi esplodono ai miei piedi Quindi Meglio E troppo che saltano Non ne ho mai visto Ok Abbiamo la vita Salviamo ragazzi Perché sapete che Se muoio Devo ricominciare Tutto da capo Non esistono Checkpoint Qui in questo gioco Quindi Meglio salvare Continuiamo di qui Non so Dove E quando Che siete voi Chi siete voi Chi siete voi Oddio Muore Muore Carica 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 Dio Quanto sei brutto Ok 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 Mi sa che ho avuto Fucile No Infatti Ho avuto un po' di Di armi Di Sentito qualcuno Ho pensato Non ho immaginato Non mi piace Sta storia Eccoli Oh le lubellule Quanto Mi mancavate Vente qua Vente qua Vente qua E io Blah Morto No Non si è morto E muore adesso Aia Aia Mori E non muore Cavolo Muori Bella Dove si Dove Eccolo qua Ma che mira C'ha forse Ah scendi Vabbè Ti sparo così Mi incita Ad andare avanti Ma io ti ammazzo Prima Bello Ok C'era la vita Mi ricordavo bene Perfetto Ste bellule Che non muoiono Ok Vediamo di qua Di qua Di qua Niente Vita Vita Ancora vita Ok Qui uscirà qualcuno Quasi scatoloni Ogni tanto Esplodono No? Qui c'è un po' di vita Così ricordiamoci Oddio Questo l'odio Questo l'odio Perché mi vomita Ok E muori Ok Vediamo la vita Che aveva qui Qui dentro Dobbiamo andare Ah infatti Il Il video Si chiamerà Depot Come deposito Penso Anche se Dubito La mia traduzione Si avveritira Dai Vuoi morire Ok Mi serve un po' di vita Che sta qui fuori Infatti Perfetto Continuiamo E salviamo Infatti Vedete Si chiama Depot Yes Andiamo Andiamo Dovremo Dovremo salire Penso Non è vuoto Cavolo Questo andrà bene Mi serve Una fiala di Eccola qui Una fiala Perfetto Continuiamo a salire Dice la scala Dove 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 Ciao pompiere E non muore Ovviamente Non deve morire Non muore Con due colpi E lui muore Con un colpo Giustamente Va bene L'ho mirato Anche in faccia Non l'ho mirato Sulla spalla Sulla gamba Tutto sto giro Devo fare Che palle E' una vita Tanto so che Uscirà qualcosa Da lì Già lo so Già immagino Eccolo Altro pompiere E dai però Devi morire Pure tu E guarda Quattro colpi Cinque colpi Sei colpi Per ammazzare Dov'è 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 Quello in cambio Dov'è Oddio Era sotto Va bene Per fortuna Ho salvato Ecco come Cosa Buon incontro Se muoio Quindi Devo ricominciare Per colpa Di quel Pezzente Che mi ha sparato E non Sapevo dovere Colpa anche mia Però Andiamo subito Se il caricamento Permette Eh Ok Andiamo Dove siete? Ah quella Starà di lì Sicuro La fortuna E' deficiente Spara al muro Così Non perdiamo Non perdiamo Niente Di vita Questa vita Me la conservo Tanto 82 Anzi Me la piglio Se non volevo Fare tutto il giro Perfetto Allora Un'arma Vai Vai Vieni Vieni Dritto Così Mi sparo Nella Cervella Perfetto Ora Save Così Abbiamo fatto Un bel po' Di Di strada Prendiamo Questo Anzi No Questo Assicuriamoci Che non ci ammazzi Ora Ma c'è quello lì No perché ti sei spostato Dove è quell'altro che me l'ho ucciso prima? Sopra sotto Ora non esce Vuoi vedere? Dove è? Eccolo Eccoli l'infami Eccoli l'infami Perfetto Erano in due E salvo Scusate sempre ragazzi Ma dovete capirmi Non posso fare Tre ore Mille ore Di video Dio Stavo per cadere E ora? Da lì? Da dove vado? Ah devo saltare? Sì ma mi mettete Sto sclacolo qui Così Forza Ma no forse mi devo accovacciare Ecco Ok c'è troppo silenzio qui Non mi piace Ok ragazzi C'è un caricamento Vediamo se abbiamo completato Questa missione Game salvato Vediamo come si chiama Save game Deport 2 Perfetto quindi Andiamo Qua in minuto Siamo arrivati Possiamo continuare Ancora sì Facciamo quest'altro Tragitto Muori Oddio che riflessi Che c'ho Qui che cos'è? Aia Da dove? Dove sei? Dove sei fatti vedere? Eccolo Muori Muori Ok andiamo C'è poco silenzio C'è poco silenzio C'è silenzio Non c'è poco silenzio Che cavolo dico Ok Ma qui? Usiamo dalla finestra Con c Vai Perfetto Oddio Perché non c'è la musica Amica c'è la musica Quando c'è Io posso fare un'uccisione stealth No Ma che devo Ma che uccisione stealth Qui uccidiamo solo In maniera Aggressiva Ed efficace Devo salire lì Oddio Spara Ah ti piglio il braccio Si Tanto anche se ti spara il braccio Muori ugualmente Ok mi sa che non posso salire da qui E devo andare Ah no si posso salire Dai Salta Salta No Non mi fa entrare Ok Andiamo di qua No Dove lo cavolo vengono di qua Oddio 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 niente non so che ci fosse qualcosa cioè ma poteva salire sulla scala del vagone no dovevo fare tutto sto giro non mi piace qui dai l'ho preso in testa guardate è gioco si pari ok vediamo questo fucile che è sempre gradito no no ok si andiamo c'era una vita qui dentro mi sa che l'ho vista prima di qua prendo questa salta perfetto anzi sono due va bene ok andiamo di qui pensiamo dove andare lì c'è altra vita perfetto sono in abbondanza mi fa ridere quel vecchietto quando viene portato ok lì dietro c'è una porta quindi andiamo di là dove si dove si dove si dai c'è la testa lì c'è un pochino di vita per fortuna ce n'è molta perché sono stati in grosse difficoltà lo sapevo che ci fosse qualcuno di dentro muori muori il mio fucile è più potente baby ok andiamo di qua salverei visto che siamo arrivati in un punto diverso vai vita c'è qui cavolo muori muori lol l'acqua jump shop chiamano così ok la mia schivata malefica ok andiamo di qua ciao 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 ma presto stavolta stavolta lo prendo anch'io guardate dov'è quello bel colpo non c'è un cazzo qua quindi usciamo non mi ricordo da dove sono venuto mi sa di lì quindi di qua dobbiamo andare si oddio no no oh cazzo mi lancio i tombini è vero non muore è morto grande meno male che si è fermato qui perché mi fa chiaramente schifo sto mostro è il più brutto che c'è in questo gioco potete anche commentare dire qual è il vostro mostro preferito diciamo di questo gioco anche se quello secondo me è il più brutto il più disgustoso il più macerba ok andiamo di qua mi sa che dobbiamo uscire da questo cancello e salveri dopo quel mostro vai yes ciao libellula libellula no come fai mi hai fatto lo spavento come ha fatto a vedermi dico io ma c'è la testa al contrario no 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 il mitragliatore no muori eh no perché tu il mitragliatore io no eh vieni con la stessa arma infatti qua c'è una mia scorta di vita quindi andiamo vabbè continuiamo ok altro cancello lì perfetto perfetto di qua c'è nessuno che le scale portano di qui anche se lì c'è la vita però ma perché non mi dai ah pure questo va bene adesso a sto punto ci prendiamo quella vita solta solta mi prende per il culo eh non posso andare lì no non ci credo non c'è anche lo sprint vabbè andiamo avanti mi prendono per il culo mi trollano qui i produttori di questo gioco dicendo mi salta provaci ci puoi arrivare ma l'avete visto dov'è dov'è che c'è oh cavolo questi mi fanno sempre paura cazzo mi hanno dato un martello in testa lol muori perché sempre in due sono i gemelli diversi questi i gemelli si si inseparabili nooo l'elettricista ragazzi c'è l'elettricista c'è l'elettricista vai forza ok gli ho rotto due fusibili perfetto andiamo di qua quanta ansia che mi sta arrivando mi sta salendo l'ansia oddio chi è che mi sta mi spara dove si dove si dove si dove si ecco no 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 sono troppo vicino devi morire devi morire ok voglio capire forse di qua tu cavolo è ma è sopra so- ah eccolo questi sono i più pericolosi e quelli che fanno più danno ma per fortuna noi siamo più intelligenti ok dove andiamo adesso? di qua mmm mi sembra strano sempre sui tetti oddio spostati ma questo dovrebbe andar bene se li faccio non vai carica e non muore ovviamente salvo 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 ok yes vai ora che mi serve un po' di vita non c'è ovviamente dovrebbe esserci qui giù no siamo giunti alla fine dell'episodio infatti invece e ci vediamo alla prossima ragazzi sempre con un nuovo video mi raccomando mettete un mi piace iscrivetevi e commentate il video e se volete mettetelo nel preferiti ci sentiamo alla prossima io sono lociac90 e a presto ciao ciao